Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi vi porto un altro appuntamento con una rubrica molto amata del canale, che è quella delle età dei personaggi di Star Wars. E in questo caso voglio occuparmi di quelle che sono le età, in tutti i prodotti principali in cui compare, del personaggio di Han Solo, uno dei più amati in assoluto di tutto il franchise. E vi posso assicurare che anche in merito alla sua età e quindi anche in merito alle sue informazioni anagrafiche ci sono davvero tantissime curiosità, delle quali vi parlo come sempre insieme alla ricostruzione della sua età all'interno dei prodotti principali della saga. Il tutto ovviamente dopo la sigla. Come ormai saprete, per ricostruire quelle che sono le sue età all'interno di tutti i principali prodotti in cui compare, dobbiamo stabilire quella che è stata la data di nascita del personaggio di Han Solo. E in merito a questo ci vengono in aiuto alcune opere molto importanti. La prima è la Official Guide di Solo a Star Wars Story, che ci svela che Han Solo è nato circa 13 anni prima rispetto alla proclamazione dell'Impero Galattico, e quindi 13 anni prima rispetto al 19 BBY. E questo dato viene poi confermato all'interno di un'altra guida canonica molto importante, e cioè Star Wars Timelines, che infatti conferma proprio la data di nascita di Han Solo, stabilendola al 32 BBY. Un anno molto importante per quanto riguarda la storia galattica, considerando che è l'anno in cui è ambientato episodio 1, la minaccia fantasma. E parlando di trilogia prequel, voglio già introdurvi quella che è una grande curiosità in merito al personaggio di Han Solo, poiché dovete sapere che il personaggio sarebbe dovuto comparire proprio in episodio 3. In particolare nelle sequenze ambientate su Kashyyyk, dove avremmo visto il giovane Han Solo vivere proprio con i Vuki e assistere il maestro Yoda. E di questa apparizione abbiamo solamente dei concept art del giovane Han, considerando il fatto che non fu mai trovato un attore che lo interpretasse, e quindi alla fine il suo ruolo fu tagliato dalla bozza finale di episodio 3. E a mio modo di vedere questa è stata una scelta saggia, considerando il fatto che poi abbiamo avuto tutta la sua backstory concentrata su Coreglia, quindi concentrata su quello che è il suo luogo natale. Ed è interessante notare che in episodio 3 avrebbe avuto proprio 13 anni, quindi quel dato anagrafico è stato poi mantenuto anche successivamente. E anche se in live action non abbiamo mai visto la sua infanzia, un Han Solo bambino ci è stato recentemente mostrato all'interno del secondo numero della miniserie a fumetti Han Solo e Chewbacca. In un periodo di tempo però abbastanza imprecisato. E a mio modo di vedere antecedenti ad episodio 3, considerando il fatto che Han sembra molto più piccolo di un tredicenne. Ma andiamo ora a considerare quelle che sono le sue apparizioni all'interno delle opere live action, partendo ovviamente dalla sua prima apparizione cronologica, sempre in live action, che avviene proprio nello spin-off a lui dedicato, solo a Star Wars Story. Pellicola che come sappiamo è ambientata nel 10 BBY, però ha un prologo che invece si svolge nel 13 BBY. Perciò possiamo affermare che durante il prologo Han aveva circa 19 anni, mentre nel corso del film ne ha 22. E in questo caso, come sapete, il giovane Han Solo è interpretato da Olden Ehrenrecht. Ma passiamo ora alle opere principali, in cui conosciamo il personaggio di Han Solo e in cui, ovviamente, è interpretato dall'iconico Harrison Ford, e cioè la trilogia originale, in primis episodio 4, che è la sua prima apparizione in ordine di uscita, all'interno del quale, trovandoci nell'anno zero, Han Solo ha proprio 32 anni. E diciamo che anagraficamente ci troviamo più o meno con quella che era l'età di Harrison Ford nel 1977, che era un po' più grande. Egli, infatti, essendo nato nel 42, aveva 35 anni. Un'età che poi corrisponderà a quella della sua apparizione in episodio 5, e cioè l'impero colpisce ancora, che come sappiamo è ambientato tre anni dopo gli eventi di Una Nuova Speranza, quindi nel 3 ABY, e Han Solo in questo caso ha, appunto, 35 anni. Mentre in episodio 6, Il ritorno dello Jedi, che conclude le vicende della trilogia originale, Han Solo ha 36 anni, considerando che il film è ambientato un anno dopo le vicende di episodio 5. E passiamo ora a quello che è il salto temporale più considerevole, e cioè quello che va dalla trilogia originale alla trilogia sequel, dove, come ben sappiamo, rivediamo Han Solo all'interno di episodio 7, Il risveglio della forza, in cui il personaggio ha 66 anni, considerando che il film è ambientato nel 34 ABY. In questo caso, però, il personaggio sembra più anziano, e infatti si sente la differenza anagrafica con quella che era l'età effettiva di Harrison Ford, e cioè all'epoca di 73 anni. Ma si tratta di un elemento che comunque non ha dato particolare disturbo. Come ben sappiamo, Han Solo, proprio in episodio 7, trova la sua fine per mano di suo figlio ben solo, divenuto ormai Kylo Ren. E sarà proprio suo padre, in episodio 9, che è ambientato nel 35 ABY, quindi un anno dopo le vicende di episodio 7 e di episodio 8, a spingere Kylo Ren a tornare alla luce, quindi a spingere per la sua redenzione e farlo diventare nuovamente Ben Solo. In questo caso Harrison Ford ricompare nel film, interpretando ovviamente Han Solo, ma sotto forma di ricordo. E questo è un elemento che ha generato molta confusione nei fan, perché ovviamente quello che vediamo su Kefbir non è assolutamente il fantasma di forza di Han Solo, ma è semplicemente una visione della forza che era data da un ricordo di Kylo Ren ben solo, che quindi si manifesta a lui in quel momento e ha un ruolo molto molto importante per quella che sarà la sua successiva redenzione. E in questo caso, se il personaggio di Han Solo fosse stato ancora in vita, avrebbe avuto 67 anni. E anche se le apparizioni live action del personaggio finiscono qui, come ben sapete la mia speranza è quella di rivedere Han Solo all'interno di opere post-endor, o meglio, all'interno di opere dell'immediato post-endor, quindi ad esempio nel film conclusivo delle vicende del Mandovers, considerando che in quel periodo abbiamo già avuto Luke Skywalker e soprattutto ci è stata accennata e abbiamo sentito la presenza di Leia Organa, nonostante il fatto che non l'abbiamo ancora vista in live action in quel periodo. Perciò in un'ipotetica sua apparizione all'interno delle vicende del Mandovers, magari proprio nel film conclusivo, se consideriamo l'ambientazione sempre nel 9 ABY, Han Solo dovrebbe avere circa 41 anni. Ma vi ripeto, è un'ipotesi ancora abbastanza nebulosa, più che altro si tratta di una mia speranza. Mentre quando è nato suo figlio, quindi quando è nato ben solo nel 5 ABY, il personaggio aveva 37 anni, quindi più o meno un anno dopo le vicende della battaglia di Endor. E vorrei concludere questo video proprio con la speranza di rivedere in opere future il trio riunito in vicende post Endor, un po' come era accaduto all'interno dei prodotti cartacei Legends. Ovviamente il tutto però dovrà essere giostrato molto molto bene. Ed è inutile dire che vedere Han, lei e Luke nuovamente insieme sarebbe davvero super emozionante. Per il momento ditemi nei commenti cosa ne pensate dell'età del personaggio all'interno dei prodotti in cui compare. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!